Siamo in Via delle Molacce, una perdita idrica segnalata da tanto tempo, anche Forza Italia sul posto per chiedere che cosa? Come tutti sanno, occhio sulla città. Io e Emanuela stiamo girando i quartieri per cercare di dare sfoco e soprattutto aiuto ai cittadini che si sono rivolti già da almeno un anno, vari mesi, dal sindaco. Hanno richiesto aiuto, importante come in questo caso, un servizio che è un diritto e non l'hanno ricevuto. Allora, che cosa segnaliamo oggi? In Via delle Molacce c'è veramente un torrente, io penso un obbici, un fiume d'acqua. Non so come farglielo capire al sindaco Cozzolino che fa le riunioni e non dà spiegazioni. L'acqua sa, potrebbe, ma verrà, non si sa. Allora quello che dico, i cittadini disperati perché, caro sindaco, non hanno l'acqua, l'acqua non c'è, le bollette sono salate e quindi i contribuenti non vogliono pagare più. Praticamente il sindaco Cozzolino, cari amici di Ciechia, sta trasformando i cittadini in cattivi contribuenti perché il servizio non c'è e quindi si necessita un intervento. Quello che vogliamo dire, la telecamera sta inquadrando, questo torrente, questa perdita, caro sindaco, caro assessore Ceccarelli, se venite a vedere, è direttamente collegata alla conduttura comunale. Allora l'acqua si spreca in alcune parti e in tutta la città la gente non si può lavare, come si dice, il viso con l'acqua pubblica. Da quanto tempo l'avete segnalata questa perdita? Questa è stata segnalata diverse volte, ultimamente sono venute, per fare una riparazione qui sopra, sono venuti i tecnici del comune, hanno guardato, hanno guardato, vedono che l'acqua è tanta, però non ci mettono l'acqua perché è difficile giustarla, perché la condotta è vecchia, non si può giustare, non si può fare. Questa è una questione che va avanti poco, 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 sarà più di vent'anni che c'è questa perdita. Per me, io ho fatto questo perché non posso vedere tutta l'acqua che si perde così, quando la gente non c'è un goccio d'acqua dentro casa per lavarsi il viso. Per me è una vergogna questa.